Uè, bentornate e bentornati sul canale di Gross. Oggi ricominciamo un viaggio alla scoperta dei falsi storici. Un viaggio iniziato qualche settimana fa parlando di reliquie in un video che se vi siete persi potete recuperare cliccando qui o in descrizione. Oggi passiamo dal sacro al profano, dagli oggetti per la cura dell'anima a quelli per la tortura del corpo e scopriremo che tanti oggetti che pensavamo essere un comune addobbo di ogni camera delle torture medievali che si rispetti in realtà altro non sono che un'invenzione posticcia per far vendere di più i musei di tutto il mondo. Partiamo dal livello facile, una cosa che sicuramente avrete sentito nominare o visto una volta nella vita. La Vergine di Ferro. La Vergine di Ferro o Vergine di Norimberga è quel famosissimo sarcofago antropomorfo ripieno di spine come un fico d'india al contrario, un aggeggino diventato famosissimo grazie all'apparizione in tantissime opere tra film, libri e fumetti, oltre che per aver ispirato il nome di una delle band metal più famose di sempre, gli Iron Maiden. La Vergine di Ferro è così presente nell'immaginario collettivo che ci verrebbe facile pensare che fosse più comune di un armadio dell'Ikea nelle camere di tortura di quel periodo buio e terribile che non si può pronunciare senza che parta un fulmine horror in sottofondo. Il Medioevo. Ecco, vedete? Eppure non solo non è arrivata fino a noi neanche una Vergine di Ferro costruita prima della fine dell'Ottocento, ma non compare neanche in alcuna cronaca, carta di processo o manuale del perfetto inquisitore, che mi immagino fosse tipo il topolino dei giovani aspiranti torturatori medievali. Di fatto, nonostante siano spacciate come strumento medievale, la prima Vergine di Ferro documentata spunta fuori nel 1840, appunto a Norimberga. All'epoca, molti collezionisti europei commissionavano opere del genere perché erano appassionati del Medioevo gotico, che andava molto di moda. Era un Medioevo buio, fatto di inquisitori col cappuccio e streghe col naso adunque, il calderone e tantissima violenza, sangue, atrocità gratuita. Insomma, un Medioevo finto. Ma quindi come gli è venuta in mente la Vergine di Ferro? Tutto è iniziato con i barili della vergogna, che le autorità facevano indossare ai soggetti sottoposti a pubblica umiliazione. Che, diciamocelo, forse facevano meno paura, ma io reintrodurrei molto volentieri. La Vergine di Ferro non è però l'unico artefatto medievale creato a tavolino e di cui non c'è giunta nessuna prova documentale o archeologica dal passato. Come ho già detto nella scorsa puntata sulle reliquie, nel momento in cui si crea una domanda sul mercato ci sarà sempre qualcuno disposto a soddisfarla. I collezionisti andavano pazzi per quei cimeli dei secoli bui e così quei benefattori dei falsari si prodigavano per fornigli i più truculenti strumenti dal passato. Come ad esempio le pere vaginali, che andavano a solleticare non solo le fantasie più turpi in termini di horror, ma ci aggiungevano anche quel tocco di sadomaso che non fa mai male. Anche alle pere vaginali sono stati dedicati paragrafi in articoli e riviste. Anche le pere vaginali sono esposte in bella mostra nei musei di mezza Europa. E anche delle pere vaginali non esiste alcuna prova documentale antecedente al secolo scorso. Ho già detto abbastanza volte pere vaginali per farmi demonetizzare il video? Pere. Vaginali. Tutto ha inizio nel 1629, quando viene citata per la prima volta una pera orale, usata per non far gridare le vittime durante le rapine. Sporadicamente, nei secoli successivi, le pere orali fanno la loro comparsa in altri racconti, sempre come strumento per tappare la bocca a qualche malcapitato. Anche se va detto, secondo molti storici in realtà erano un'invenzione, non furono mai realmente usate neanche a quello scopo. Poi, nell'Ottocento, magicamente, decidono di fargli cambiare orifizio e destinazione d'uso e la rendono uno strumento dell'inquisizione ecclesiastica usato per far confessare le donne sospettate di essere streghe, cominciando a produrle in serie e adornandole con volti soddisfatti e simboli esoterici. Un altro strumento molto popolare che vedrei bene in un remake dei film di Boldi e De Sica è la culla di Giuda. La culla di Giuda sarebbe un complicatissimo arnese che tramite pulegge, catene e leve varie punterebbe a far levitare il sacro orifizio del torturato su una grossa punta minacciosa. Una roba complicatissima che già vedendo come funzionano bene le macchinette, quelle col braccio meccanico per prendere peluche alle giostre, avrebbe dato vita più a uno spettacolo comico che non ad una tortura. Anche in questo caso non esiste alcuna prova documentale né ci è mai arrivato alcun reperto dai secoli passati, così come non esistono di un'altra comoda seduta che probabilmente non potrete trovare in offerta o in saldo da polterone e sofà. La sedia inquisitoria. La sedia inquisitoria sarebbe questo splendido e molto maneggevole trono a metà tra il trono di spade e il tappeto da fachiro sul quale i torturatori avrebbero accomodato l'interrogato per convincerlo a confessare i propri crimini più peccaminosi. Ormai la canzoncina l'avete imparata. Non esistono prove documentali prima del 1880 né alcuna copia creata prima del 1900 e l'idea stessa che gli inquisitori avrebbero preferito spendere chili di ferro e danari per ottenere lo stesso risultato che avrebbero ottenuto con una corda ne rende il suo utilizzo diciamo molto sospetto ecco. Ultimo strumento di tortura che vediamo oggi è la forcella dell'eretico. Questo pratico forchettone bifronte che neanche a Masterchef da applicare al mento del malcapitato per convincerlo ad adottare una posa mussoliniana durante gli interrogatori oltre che per convincerlo a sussurrare la parola abiuro e a pentirsi. Forse il falso meno conosciuto perché fa un po' meno paura degli altri e non viene applicato a nessun pertugio o orifizio dove non batte il sole ma non per questo meno falso. Avete già imparato ormai. Non esistono prove documentali, non è mai stato ritrovato prima del Novecento. Prima di passare alle conclusioni concedetemi una menzione d'onore non più uno strumento di tortura ma un oggetto che sicuramente ha altresì sollazzato le fantasie di più la cintura di castità. Oggetto antenato della moderna cintura d'azzarro la cintura di castità sarebbe una cinta di metallo che le donne nel Medioevo erano obbligate a indossare in attesa che il marito tornasse dalla guerra. Tipicamente una delle ventordici crociate. Venivano applicate affinché il prode cavaliere potesse essere certo di essere accolto al suo ritorno da una moglie fedele. Anche in questo caso niente di più falso. Sarebbero state decisamente poco pratiche e molto pericolose. Tuttavia pare, e dico pare, che abbiano ispirato un oggetto simile diffusosi nell'Ottocento una cintura di castità di pelle indossato però volontariamente dalle donne come meccanismo antisturro. Pare che ne esistessero anche per gli uomini imposti ai giovani per impedire che si masturbassero. Però non sono proprio certissimo di queste ultime due cose e quindi prendetele con le pinze. In conclusione, che possiamo dire? Al Medioevo viene immeritatamente disconosciuto qualsiasi progresso e viene spesso dipinto come un pastone di secoli bui e terribili addossandogli pure colpe avvenute in realtà in altri periodi ad esempio la famosa Inquisizione o i roghi di streghe che in realtà erano più una cosa da rinascimento. E nel momento in cui nasce una narrazione sensazionalistica che fa leva sui sentimenti o sulle credenze popolari non solo è difficile andare a sradicare queste visioni distorte della realtà ma c'è sempre qualcuno pronto a lucrarci sopra. Ora come allora. Per oggi è tutto. Sicuramente la serie sui falsi storici proseguirà almeno con un altro paio di puntate magari una dedicata ai documenti mai sentito parlare dei protocolli dei savi di Sion e un'altra invece all'oggettistica un po' più simpatica tipo alieni e sirene varie. Quindi se vi è piaciuto il video iscrivetevi, lasciate un mi piace e seguitemi attivando la campanellina così sarete avvisati quando usciranno. Se avete suggerimenti per altri video legati a fact checking, complottismi o altri fenomeni del web vari scrivetemeli qui nei commenti così io poi me li metto in lista e prima o poi giuro che li faccio più o meno tutti. Va bene? Vi ringrazio per essere arrivati fin qui vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Grazie! Grazie!